Bella giocata a due ore against Spencer che conferma le difficoltà nel trattare il pallone in qualche modo si riesce a venire fuori con una grandissima giocata di A.J. Packer Dopo la prima tripla prendi e spara granata a bersaglio incendiando anche il Dome ora torna nella media stagionale mentre di qui Mattia Udom dà un saggio della propria potenza 10 sul cronometro di tiro, 25 da giocare, Bartley accenna la tripla, prova ad andare dentro con un sottomano rovesciato Mamma mia che giocata di Frank Bartley signori Schiaffeggia appena il ferro, nuova lotta a rimbalzo, vinta ancora la Trieste che va dentro con Skylar Spencer che riesce a controllare Altro blocco di Atkins, Forrai forza la tripla, l'ultimo secondo di 24, pasticciano a rimbalzo Bartley e a J. Packer Andrà anche in lunetta col potenziale gioco da tre punti Danza sulla linea di metà campo rischiando tantissimo, poi si difende A suonare nuovamente la riscossa per Trento, si infila un po' in un vicolo cieco ora Atkins Davis, differenza di centimetri abissale, chiude tardi, chiude tardi Spencer Forrai moment, punisce l'argentino Con Ruzier che la porta di là, Bartley Esce per un attimo in aiuto Atkins, Bartley in allontanamento, va a realizzare un canestro Cerca di trovare un po' di spazio, Ruzier dentro per Skylar Spencer Come una lama nel burro Skylar Spencer, il passaggio di Michele Ruzier Partita non bella dal punto di vista qualitativo, ma sempre aperta ad ogni possibilità Ruzier vuole alzare per Skylar Spencer Alli up, spettacolo Tosta a 360 gradi, mentre a proposito di giocate tost Partita non bella dal punto di vista qualitativo, ma sempre aperta ad ogni possibilità Ruzier vuole alzare per Skylar Spencer Alli up, spettacolo Flaccadori accenna la tripla Cambio difensivo Accetta Packer Faccia a faccia Con il play Trentino che va dentro Con una serie di esitazioni, con una classe cristallina Circolazione perimetrale, lo schiacciato di Atkins Ancora Toto Forrai Prova ad esplorare il pitturato triestino Ed eccola E ora chiaramente non c'è più tempo per Trento Che può riprovarci con Darion Atkins Che non trova nemmeno il ferro su questa tripla Vittoria doveva essere per Trieste Che non trova nemmeno il ferro su questa tripla Che non trova nemmeno il ferro su questo